Eeeh, what's up? Tutti ci sono e benvenuti nei giocherini in questo nuovissimo episodio su Silence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 anche per questo nuovo video Scusatemi ragazzi se mi vedete un pochettino spentuccia tra virgolette Ma qui sta facendo un caldo veramente allucinante e qualcosa non mi fa sentire molto bene In ogni caso eccoci qua di ritorno L'obiettivo che abbiamo attualmente ragazzi è sicuramente dover passare per quel grosso portone che abbiamo visto con Noah Il punto è che quei due marmocchi maledetti vogliono quei mostriciattoli orrendi per far sì che possano poi aprirci la porta Per cui credo che sia compito di Rini trovarne un paio Il punto è dove? Allora qua l'altra volta avevo usato l'amo ragazzi all'interno di questa fontana però non era servito assolutamente a niente Proviamo a riandare anche verso i canali ragazzi magari mi è sfuggito qualcosa la volta scorsa Come non detto ragazzi no non ho trovato niente che sembrerebbe utile Io sinceramente non so come uscire da questa maledetta situazione Dopo praticamente un'eternità che sono qui ragazzi mi è venuto in mente che Rini ha detto mi serve un'esca E mi è appunto rivenuto in mente che Noah ha delle caramelle Magari sti mostriciattoli sono golosi e le caramelle potrebbero funzionare come esca Cioè non so ragazzi vi giuro che ho fatto tipo 3000 pensieri nel giro di questa eternità E cioè non è stato giusto nemmeno uno per cui mi auguro che almeno questo sia giusto Vediamo se parliamo con lui attraverso il tubo se ci dice qualcosa Ok Ok Madonna ragazzi vi giuro Però più che sudavo Che sudavo cercando la soluzione E dopo aver pensato 10 miliardi di cose per fortuna ok No Si c'è So dov'è Perfetto fantastico Adesso si che possiamo Oh adesso si che possiamo usare l'amo Si Per cui stai pronto spot Che tra un po' tocca a te spot Ok tiriamoli su Oh Oddio Madonna addirittura tre What the f- Oh no Perché si è bruciata la caramella Si va adesso calmatevi Oh Mi ho perduti Forza e coraggio All'altro A All'altro E al grazioso Ecco fatto Perfetto Finalmente riusciamo a procedere in qualche modo ragazzi Io giuro mi stava venendo una disperazione Ci siamo Allora Qui c'è il frammento Qua c'è il tamburo Qua c'è un modo per Lanciarsi in aria Per cui probabilmente Cadremo sul tamburo Rimbalzeremo E arriveremo al Al frammento Ah No Come l'ho detto Però se caresse tutto Sarebbe veramente meraviglioso Allora Aspettate un attimo Ah Leva della pompa Probabilmente si arriverà qualcosa ragazzi Solo che Nel buco nel muro Avevo provato già la volta scorsa a passare Non so se l'avevo messo quel pezzo nel gameplay E non ci passava Io ci riprovo ma No Stavolta possiamo entrare nella scatola dei gritti Proviamoci Tanto non è che abbiamo molte altre cose Con cui interagire qui Effettivamente Andiamo un po' Se usciamo dall'altra parte Perché va a fuoco? Non credo che sia questa la soluzione che cerchiamo Ma se provassi a rientrarci E Non credo che nemmeno questa sia la soluzione Se ci rientriamo Magari Oh 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 Questa forma potrebbe esserci utile Perché probabilmente questo buco nel muro Risbucherà qui ragazzi Ok proviamo adesso Sì perché sono praticamente identici Quindi magari sono un'entrata e un'uscita Dello stesso tubo Oh Meno male Ok adesso possiamo Abbassare la leva Ma perché? Ma perché dovrei chiuderla? Dai Ho fatto tutta sta fatica Possiamo usare la fionda di gomma sotto questo aspetto? No come non detto Allora una cosa la sappiamo Questa forma ci serve per aprire quella leva Quindi questo ce lo dovremmo ricordare Però Non è la forma che Evidentemente ci serve adesso Per raggiungere il frammento Per cui Visto che la forma piatta Dubito Che ci servirà per arrivare fin lassù L'unica altra forma ragazzi Che ci usciva Entrando nella scatola dei trucchi È spot in fiamme E questo qualcosa deve pur significare Per cui Proverei a saltare adesso Vediamo se Serve a qualcosa Perfetto Direi che puoi prendere tranquillamente il frammento Spot Dopo che siamo stati qui tipo 20 secoli Ce l'abbiamo fatta Caro cercatore Attaccati a sta cippa E' quello direi proprio io Ma Ma lascia No E adesso Minchiarini te li sei fatti pure sfuggire Cioè che cavolo Erano quelli Quello che ci serviva Sì ma c'è Ok quindi gli fa schifo la puzza di pesce Li farà schifo anche La frutta marcia Ok Quindi qua non ci saranno Andiamo verso i canali Bolle Prima non c'erano le bolle Davvero Oh un altro è lì L'altro è lì nel cilindro ragazzi Oh mio dio è morto È affogato Ah ok Dove vai? Minchia E quell'altro come lo prendo? Ah con l'amo anche Davvero? Fantastico La soluzione a tutti i nostri problemi Grazie Sì Tiralo pure Si farà un bagnetto pure il lumi direi L'altro lumi perlomeno Ah meno male Perfetto Adesso che abbiamo pure quest'altro lumi Direi che possiamo tranquillamente tornare Da dove siamo appena arrivati Oh mio dio Vabbè torniamo sul luogo dello schianto Poco importa Allora qua uno ce ne abbiamo Ah possiamo infilarlo qui davvero? Ma davvero passa lì in mezzo Come fa? Sicuramente Ma Certo certo Sì ma scusa A lui servono due lumi Non uno Scusa eh Vai su Oh mio dio E' cattivissima questa cosa Eh Sì ma ci serve Ci serve Ecco infatti ci serve l'altro Certo certo E caspita sarà andato l'altro Allora questo Riesco a prenderlo? Non credo E come lo prendo? Ecco Come non detto Ah minchia è lì l'altro Guarda il pezzo di merda Come si nasconde Vieni qua Abbiamo bisogno di te Ehm Come non detto Ah eccoti qua Smettila di nasconderti Prima che mi alteri Oh Ma Scusa eh Aspettate un attimo Visto che Io già so dove sbucherà Probabilmente posso precederlo Magari Vediamo se andiamo già verso di qua Ti frego Oh Prendilo Prendilo Oh Minchia un'altra eternità ragazzi Seriamente Torniamo sul luogo dello schianto Immediatamente E vediamo E vediamo Rispedire sti due Cosi pelosi A Noah Dai su Andate su Forza Sì Sicuro Forza Oh Madonna Ecco fatto Arrivano Possiamo usare Possiamo usare Staffare Magari Visto che è qui E ha una forma Cilindrica Direi che fa il caso nostro Ecco fatto Ok Meno male Almeno sta cosa è stata immediata Ehm Oh Così di sicuro Non scappate più Eh Pezzazzi di merda Oh Che cura Fare a partire l'acqua Come abbiamo fatto Prima Ecco qua Perfetto Forza e coraggio Passatela pure Ecco qua Ora dovremmo esserci Aver risolto la cosa Arrivano Oh mio dio Prendili No Prima che scappino Quanto fare Beh prendili Prendili E basta Non ti fare altre domande Picchia di nuovo Non lo so Ah Forse possiamo muovere la panchina Per bloccarvi la strada Aspettate un attimo C'è qualcosa Deve potre servire Pensavo potessi servirci A bloccare la strada Sinceramente Vabbè Niente Proviamo a continuare A correre Lì dietro Niente Ah qua abbiamo Ambrallenza Aspettate L'hanno fatto cadere Ah Ok Come no Ah qua Perché dobbiamo legarlo A quest'altro tubo Ok Per cui dobbiamo riportare La panchina Dove era ragazzi Ok Adesso dovremmo esserci Perfetto Così li blocchiamo Mentre cercano di scappare Oh Speriamo Ok ce l'abbiamo fatta Proviamo a inseguirli adesso Vediamo un pochettino Non c'è un padre adesso Pezzi di merda Oh Per fortuna Ah si sono pure legati Perfetto Proprio antifuga Ecco fatto Oh Finalmente ragazzi Andiamo a lasciare Queste due patate Pelose Le due bambine Che ci hanno chiuso Il portone in faccia Oh I lumi Che mi avete chiesto Tata Lumi Si Si Devo avere una puzza Quel coso Se piacciono a voi Contente voi Insomma Finalmente ragazzi Siamo riusciti a passare Abbiamo risolto il problema Del frammento Mi auguro Che c'è Comincia a piovere Ok Che significava adesso Questa goccia Caduta Quale senso Metaforico Dovrebbe avere Effettivamente Boh Ci siamo Ah spot Eccoti qua Oh Si ma tu non cadere Ok Perfetto Possiamo andare Amore Che batte il pugnetto Che carino Yey Andiamo al porto Che sarebbe pure ora Dio sano Ok Andiamo pure verso il porto Ragazzi Finalmente Non mi fa andare ragazzi Possiamo usare spot In qualche modo No Ah Perfetto Ok Ah magari Essendo così A forma di palla Riusciamo a fare Qualcosina Oh Dio Riesci a reggerla Madonna Ok Che era bambina Ragazzi Però spot Minchia Minuscolo Cioè Continuo a dirlo Sto bruchetto Cioè tipo Tutta la forza Degli uomini Più forti del mondo Insieme Ok È iniziato a piovere Adesso Oh mio dio Altro è piratire Garaibi Qua Ah Finalmente Noa Ci riuniamo Che c'è che non va Oh oh Ah Eh sì Infatti erano inseguiti Poverini Forza ragazzi Forza Madonna Minchia pure Dobbiamo pure preparare la nave Davvero Forza Ce la faremo Tutti insieme Unendo le nostre forze Possiamo farcela Forza spot Prendila Dai Ce la farò Oh merda Per poco Ok Piano Che giotto ho perso una volta Spot Non voglio perderti di nuovo Ok La vela È stata Aperta Spiegata Ah ecco Oh merda Che La corda Eh sì Ah è l'ancora Porca vanca Ah lo so Non possiamo Mi sa eh Ok Ah questa è la leva dell'ancora Perfetto C'è un simbolo grosso Così Ce la fai Figurati Minchia Dobbiamo sempre far ricorso a spot Poverino Forza spot Coraggio Ok L'ancora è stata tirata su Eh Ok ma Oh no È questa mola dove è uscita È stata tirata su No No Ti ho detto no Non so, Kira mi sta mettendo nervosa effettivamente Ma mi dispiace per Sam e Genos effettivamente Per cui proverei i Rini e dovremmo essere tutti amici Niente, non è servito a niente Sedwig protegge i Rini No ragazzi non posso usare il cannone, Rini manda spot da Kira Oh, amore Piccolo Oddio, spero non scocci mai Oh, chi è chiamato verme? Scusa, eh Gambe, proviamo così Riusciremo a... Oh No Ehm Ah, possiamo provare così ragazzi Niente Eh, se... No Non farmi del male Spot No No Damn I'm sorry It's too late Minchia Spot Niente È andata così Abbiamo perso spot Di nuovo ragazzi Tanto per cambiare Comunque penso di essere vicino alla fine Quindi non so se interrompere qua effettivamente O se continuare Con poter Anche Una É Qu'è un bellissimo Ch'è un bellissimo Non è Qu'è un bellissimo Ehm Qu'è un bellissimo Si Ehm A Cosa Che 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 Come Noa ha sempre detto! Non voglio andare con te più! Voglio tornare a Noa! Come on! Showmi dove è il giro! Facci qualcosa! Usa questo pezzo di glasso! Confortarini ragazzi! Non siamo così maledetti i bastardi! Ho capito! Come caspita faccio! Effettivamente scusa! Ah! Proviamo quindi ad associare il frammento alla fonte di luce! Probabilmente è la cosa che dobbiamo fare! Andiamo un po'! La luce della luna, forse! La luce della luna, magari? Qua c'è qualcosa… Oh! Ah, ma certo! Certo! Certo, il faro! Ma dove è Rini? Oh no, non pare così Oh my god Ma come? Oddio Ma dai Quindi è andata via così Semplicemente È Sedgwick che è sulla nave come uno scemo Non lo so Il punto... Ah ok Sa dove andare comunque perché ho sentito che Bisogna andare verso il fuori evidentemente Ma dai che bello Oddio Oddio ragazzi mi sa tanto... Wiiii Minchia questo dà il turbo Fantastico Ti prenderò Spot Non pensare di fuggire da me così in eterno Ahia Attenzione le nuvole Se prendiamo in faccia giustamente quasi Moriamo asfiziati dal materiale nuvoloso Ti prenderò Spot Spot Ah sei lì Ok Wiiii Tacchiappo 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 Scommetto che sono più veloce di te Cioè dicevo sta cosa mi sa tanto ragazzi di viaggio Un po' verso l'aldilà È bruttissimo eh Ok Tocca di nuovo a noi ragazzi Facciamo attenzione Questa ambientazione è veramente bellissima devo dire eh È molto... Oh mio dio Facciamo attenzione A non prenderle in faccia Perché se no non fa ridere direi Cerchiamo di prendere il turbo quando è possibile Ecco Ah Oh qui 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 Ok Piano Qui E poi qui 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 Così avanti tutta Mi dicevo ragazzi non mi piace Cioè per carità è bellissimo eh però Non mi dice niente di buono Che c'è? No No perché? No perché? Oh Oddio Di chi la sto sognando Oh Gesù Quindi Spot non è tornato effettivamente Che tristezza Oh Where are you? Come down Rini Hurry Che c'è? Oh Che c'è? Oh oh Oddio Che c'è? 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 Tu stiii! Hey, free bubblegum and ass kicking over here. But I'm all out of gum. Oh, nooo. Oh, nooo. Ah! Io sono rimasta col dubbio fino all'ultimo Perché pensavo succedesse qualcosa Che lo salvasse A quanto pare no Ci sei Lily dai porti E adesso Infatti Dovremmo fare qualcosa Se sei in seguita dell'oscurità Cerca sempre la luce Stelle Le stelle che brillano così tanto Allora si sono le stelle Oh che bello Ma dai Ok basta Indicare Ok le varie stelle Che esplodono istantaneamente Questo tipo Non lo so È questa Ah ok le stiamo collegando ragazzi A quanto pare Perché ho appreso la forma di Di un missile Forse dobbiamo andare componendo Ok Componendo Il percorso su cui poi dobbiamo camminare Ok Adesso ripariamo la stessa identica cosa Che abbiamo fatto poco fa Oh mer- Oh No 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 Vai via Oggi è su Giuseppe e Maria Ragazzi il tempo a nostra disposizione Si sta riducendo Sempre di più Ok forza Questa 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 Oh via via Ciao Oh Non mi dice niente di buono Io ve la butto lì Eccola qua Le ultime stelle Non so se sono le ultime Penso di sì Di solito sapete Il 3 è il numero perfetto Ok Andiamo bruciando Tu vai via già però Sparisci Ciao Madonna Allora questa Va collegata a questa 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 Aspetta no Questa va collegata a questa Questa Poi a questa A questa Ci siamo Porca vacca Midea Andate via Ciao No ce ne manca ancora uno Forse Infatti Eccoli qua Ok Non ci resta che Cercare di fare Il più in fretta possibile Perché Andiamo eliminando le varie stelle In mezzo alle scatole Via Ciao Vai via Madre mia Ok Ok Poi questa così Questa colà 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 Merda 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 Ok Cerchiamo di fare Il più in fretta possibile Prima che ne arrivi un altro Dai Ok Ok Ecco Come l'ho detto Vai via Ci siamo Ci siamo Mi tiene la luna Ammazza Ok Ok Cammini aperto Direi di andare Muoviti Rini Ok Loro non possono Ok Madonna Sì Di sicuro Siamo vicini alla fine Ragazzi A sto punto Non mi conviene Interrompere adesso Ci siamo Ci siamo Allora Ci siamo Perché vuoi chiamarla Direi di andare Direi di direttamente Bé Ma Certo Ma Sieglie Ne Ne Non O Le Le L' Questa Sì Non tu puoi tornare l'altra non posso, non posso la merita può ma solo se è ristorti ora mi rende la chard ma... ma tu sei me non quasi come vedete e io sono caldo e io sono caldo tu sei la falsa queen non sono la falsa ma sono una fredda ma sarà caldo molto presto ma... ma perché? cosa significa tutto? molte domande e tu sai le risposte a tutti ma tu non li accepterai ma non mi importa tu hai qualcosa che ho perduto e tu lo darai a me io voglio la chard non so a che pensare ragazzi quindi lei è effettivamente la regina di Silence ma... è anche la falsa regina di cui Kira si lamentava sempre no mai questa è l'interno non lo faccio non lo faccio questo punto è l'interno non lo faccio ma nessuno non lo faccio ma nessuno ma dovrei apertavi le occhi e rispidete Noi! 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 Please wake up! He is dead. There is nothing for you to return to. But if you give me the shard, the mirror will be restored. And so will silence. The war out there will never end. But the war in silence will end. And the Seekers will be people again. Do you think it will bring Janice and Sam back? I don't just think so. I know. And what about Sadwick? As soon as the mirror is restored. Even if there is no Noah out there for you anymore. The Sadwick here in silence will always be by your side. All will be well again. Ok, cioè non mi stupisce più di tanto nel senso che già sapevamo ragazzi che questo era tutto all'interno della testa. Dirini però insomma colpisce sempre per cui direi... Merda. Cioè dobbiamo decidere praticamente se rimanere in questo mondo per sempre. O se ritornare al nostro vero mondo ragazzi senza noambero. E se non fosse vero quello che dice? Non lo so, non so che fare. Mi sa che sceglierò a rompì lo specchio ragazzi. Più che altro perché non mi fido tanto di quello che dice lei. Sinceramente. Per cui direi rompì lo specchio. Uno. Un kau importanza di più. Uno. I want to go home. No! I want to go home. 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 I liked your story. Now, I'll tell you a story. I want to go home. 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 I want to go home.